e finisce così la partita allo stadio Alberto Picco della Spezia la Spezia batte 2-1 la Salernitana in rimonta con un gran gol di Kovalenko oggi Kovalenko strepitoso gol e assist, migliore in campo rimonta questa partita lo Spezia e si porta a casa 3 punti in classifica quindi in ottica salvezza 3 punti importantissimi ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giaprez oggi siamo qui ragazzi nuovi io sono appunto qui nel Giaprez commentare il post partita di Spezia Salernitana che finisce 2-1 per lo Spezia che rimonta la partita prima di parlarvi della partita vi invito a lasciare subitissimo un bel mi piace un commento qui sotto scrivendomi se avete visto magari la partita secondo voi vi faccio una domanda a fine video quindi rimanete fino alla fine del video e ovviamente lasciate un bel mi piace se siete nuovi iscrivetevi al canale attivate la campagna di notifiche per rimanere sempre aggiornati qui sotto mi raccomando seguitemi sui social Instagram Piattaforma Viola vi ricordo che ovviamente dopo questo post partita alle ore 18 ci sarà la live appunto andremo a farò la live reaction di Lazio Inter quindi venite a vedere la mia live reaction il live quindi seguiremo la partita insieme e vi ricordo di passare sul sito appunto sulla... andate a seguire la pagina Vena Romanista una delle migliori fanpage a tema Roma passate anche sul loro sito che vendono maglie da calcio a tema Roma vendono anche cover per telefono con il mio codice sconto già avrete un ulteriore sconto vi raccomando approfittatene perché materiali di ottima qualità diciamo prezzi scontati con il mio codice sconto pagherete di meno e vi ricordo che adesso ci sono delle nuove grafiche dei nuovi sconti quindi approfittatene adesso se dovete fare magari un pensiero un regalo per qualcuno magari adesso che ci sono anche le feste natalizie approfittatene e se ho acquistato il loro prodotto mi raccomando fate una foto tagcatemi su Instagram vi riposto le mie stories parlando della partita molto velocemente nel primo tempo meglio la Salernitana lo Spezia l'avevo visto proprio male come si era posizionato in campo addirittura Giasi Terzino questa era la formazione di Tiago Motta Giasi Terzino visto la squalifica di di bastoni e visto il covid di Resa quindi giocava con Giasi Terzino lo Spezia che ha faticato tantissimo nel primo tempo anzi secondo me il vantaggio meritato della Salernitana nel primo tempo stava facendo una buona partita al 39esimo la sblocca Simi quindi primo gol con la maglia della Salernitana di Simi si sblocca finalmente Simi e sembrava la Salernitana che in campo messa meglio secondo me ho detto nel primo tempo qua finisce 2-3-0 per la Salernitana invece poi no poi vengo smentito perché nel secondo tempo lo Spezia fa una partita assurda ma mi ha sorpreso la Salernitana perché nel secondo tempo è stata imbarazzante cioè ha smesso dopo il gol del pareggio ha smesso completamente di giocare la Salernitana è stata è stata praticamente ammaliata dallo Spezia nel secondo tempo segna un gran gol Sterlez primo gol in Serie A con la maglia dello Spezia attaccante molto giovane del Slovacco quindi giovanissimo esordio con la maglia dello Spezia e gol nell'esordio no già aveva esordito però comunque gol primo gol in Serie A gran gol bella la palla che gli ha dato Kovalenko quindi Kovalenko gol e assist e il gran sinistro di Sterleks che la mette diciamo sotto l'incroci e non può nulla qui in questo caso in questo caso la Salernitana poi ci sono stati altri tentativi quindi la Spezia meritava anche più di due gol ci sono stati altri tentativi sia da parte di Sterlez ma anche da parte di Manai diciamo che in cui appunto Belez si è fatto trovare pronto se non era per Belez oggi la Salernitana prendeva più di un gol infatti secondo me l'unico veramente che ha fatto una grande partita forse il migliore della Salernitana è stato proprio Belez e poi ragazzi il gran gol di Kovalenko di Viktor Kovalenko ragazzi al 76esimo fa un gol da top player da centrocampo un tiro assurdo un tiro assurdo uno dei gol più belli di quest'anno in Serie A uno tra i migliori veramente un grande gol e quel gol ragazzi che appunto fa vincere lo Spezia a 2 a 1 con sofferenza ma ragazzi lo Spezia si porta a casa tre punti importantissimi in ottica salvezza vi dico in generale diciamo 18 tiri da parte dello Spezia 15 da parte della Salernitana 5 tiri in porta da parte dello Spezia 4 da parte della Salernitana complessivamente possesso pala meglio lo Spezia circa al 60% diciamo che Castori diciamo ha sbagliato nel secondo tempo a posizionarsi così diciamo doveva resistere la Salernitana visto che era in vantaggio ha preso il gol del pareggio dopo 6 minuti ha preso il gol del pareggio e poi da lì si è spenta complimenti a Tiago Motta e complimenti allo Spezia che si porta a casa tre punti importanti in ottica salvezza la domanda che vi faccio a fine video secondo voi chi si salverà tra Spezia o Salernitana una delle due chi tra le due oppure nessuno delle due ditemi qua sotto e niente ragazzi da qui è tutto e noi come al socio vi ricordo live reaction Lazio Inter ore 18 vi aspetto in live e niente a qui è tutto un bacione e sempre e comunque forse il calcio ciao famas complimenti a Motta ciao